mister ci siamo domani Regia Nentella si affrontano la prima e la seconda in classifica una partita che dal punto di vista mediatico quantomeno si prepara da sé sì io prima di parlare della partita vorrei parlare del mio gruppo della mia squadra dei miei giocatori e del mio staff di quello che siamo riusciti in questi mesi a costruire tra mille difficoltà con fatica con sudore e siamo riusciti al 10 marzo ad arrivare a questa partita dandogli un valore un valore incredibile da secondi in classifica e questa è una premessa che ci tenevo a farla per per tutto quello che poi siamo riusciti attraverso il lavoro a conquistarci sul campo veniamo alla partita ti chiedo che sguardi hai visto la parte dei tuoi ragazzi in settimana e come si ferma una squadra che negli ultimi due anni è stata praticamente un rullo compressore ma la squadra la squadra sta bene la squadra è concentrata sa dell'importanza della partita è chiaro che noi siamo prefissati soprattutto dopo un inizio con qualche difficoltà di ragionare di partita in partita di lavorare un giorno per volta di cercare di trarre il massimo in tutte le partite cercare di fare più punti possibili e bisogna continuare a ragionare in questo modo qua a prescindere dal dall'avversario è chiaro che giochiamo contro una squadra che è un anno e mezzo che prima in classifica con merito è una squadra che negli ultimi due anni ha perso una sola partita in casa ed è una squadra che nell'anno solare ha fatto più punti di tutti quindi sappiamo che il coefficiente di difficoltà è grande però so anche che del valore dei miei giocatori dei numeri che abbiamo fatto noi in questo giurone di ritorno che sono dei numeri importanti sono dei numeri oggettivi che nessuno potrà mai cambiare ti porti dietro qualche dubbio di formazione se non la fine ma io ho un gruppo di valore e un gruppo che mi dà tante garanzie che mi dà delle alternative ed è chiaro avere avere dei dubbi prima prima di una partita credo che sia sia naturale ad ancona abbiamo vinto 3 a 0 poi la partita dopo ho cambiato tre giocatori quindi questo dimostra il valore della mia squadra e della mia rosa quindi chi giocherà in campo ovviamente chi andrà in campo lo farà lo farà con l'atteggiamento giusto con lo spirito giusto e soprattutto chi entrerà dovrà essere parte importante della partita